Un'opera che a meno di nuove sorprese costerà 33 milioni di euro più del doppio rispetto al previsto. Un intervento che intrappola il Lungolago dal 2008 e che nella migliore delle ipotesi durerà ancora due anni. È l'identikit del cantiere delle paratie anti-esondazione di Como. A breve, finalmente, dovrebbero ripartire i lavori. E proprio nei giorni decisivi per la ripartenza delle ruspe viene convocato un consiglio comunale sul tema. Lunedì sera, nell'aula di Palazzo Cernezzi, si parlerà solo ed esclusivamente dell'eterno cantiere delle paratie. Un dibattito che verrà seguito in diretta dalle telecamere di espansione tv. Nel corso della serata verranno mostrati probabilmente anche tutti i rendering dell'opera che nei giorni scorsi sono stati consegnati ai consiglieri comunali. Il confronto verrà aperto dal sindaco di Como, Mario Lucini, poi spazio a dirigenti e tecnici comunali che si occupano dell'intervento e quindi ai consiglieri di maggioranza e opposizione. L'intero dibattito, come detto, verrà trasmesso in diretta da Palazzo Cernezzi da Espansione TV. L'appuntamento è per lunedì sera alle 20.